Diminuzione delle tariffe per le utenze commerciali e misure per contrastare il costo dell'Atari per quelle domestiche, calmierando gli aumenti, questi gli interventi che permetteranno di venire incontro alle imprese e famiglie di San Cataldo. Così come spiega il sindaco Giacchino Comparato che sui social commenta le tariffe che sono state approvate quest'anno. Stiamo e siamo al lavoro sotto tutti i fronti per migliorare il servizio e da questo punto di vista è già partito, già da settimane un piano di scerbatura straordinario e un piano di pulizia straordinario perché pretendiamo il rispetto degli obblighi da parte del gestore. Però è ovvio che dobbiamo anche garantire una sostenibilità economica a quel piano. Per cui da questo punto di vista le tariffe Tari quest'anno, 2022, hanno delle novità. Sotto il profilo delle tariffe non domestiche siamo riusciti a diminuire le tariffe per gli operatori commerciali. È una scelta che abbiamo fatto per venire incontro alle tante attività economiche che in due anni di pandemia sono state fortemente colpite. Si pensa dunque anche alle utenze domestiche e lo si farà utilizzando un fondo di 280 mila euro circa. È una scelta che per quest'anno abbiamo fatto e l'abbiamo fatta perché non volevamo perdere quei fondi, quel denaro che non era stato speso nel 2021 e perché volevamo dare un servizio anche alle famiglie. Da questo punto di vista quel fondo di 280 mila euro e rotti verrà messo a disposizione. Nelle prossime settimane andremo a individuare i criteri con le quali i cittadini potranno agevolarsi di questo fondo. E sicuramente verrà presa in considerazione le famiglie numerose, verranno prese in considerazione dei limiti reddituali. Ma badate, limiti reddituali che devono permetterci di far spendere tutti quei soldi. Non vogliamo che neanche un euro torni indietro.